Alla luce dell'importante intervista che il tuo giornale ieri ha ospitato al leader della nuova resistenza, il figlio di Mossoud, tu credi davvero che si possa sperare in una resistenza che rappresenti un argine al regime dei talebani? La situazione sul terreno ci dice che i mujahidin anti-talebani si stanno raggruppando nel Panjshir, il figlio di Mossoud è il loro leader, appartiene a una fazione taggica della popolazione tribale afghana, sta ricevendo il sostegno di una parte importante di quello che era l'ex governo Ghani, e soprattutto ci sono alcuni reparti militari scelti dell'ex esercito afghano che si stanno concentrando lì, sono riusciti a prendere il controllo di alcune aree attorno al Panjshir e i talebani stessi hanno riconosciuto questa entità di questa resistenza in attesa marciando, concentrando delle forze attorno al Panjshir. I talebani hanno annunciato la volontà di riconquistare il Panjshir, nell'intervista che citavi fatta da Bernard Henry Lévy con il giovane leone del Panjshir, lui ha detto chiaramente che non si arrenderà, che combatteranno fino alla fine, nella convinzione che l'Afghanistan non siano solamente i talebani. Direttore, vorrei rivolgere a te la domanda alla quale Gina Portella, da operatrice umanitaria, non ha saputo o voluto rispondere rispetto al G7 di oggi pomeriggio e ai rischi maggiori rappresentati dalla permanenza dell'Occidente oltre il 31 di agosto oppure i rischi maggiori sul rispetto dei patti che potrebbero lasciare tanti, troppi cittadini afghani chiusi in un paese da cui non potranno più uscire. Qual è la tua valutazione personale? Io credo che sarà un G7 molto difficile quello di oggi. Il Presidente Biden è stretto fra due esigenze diverse. Da una parte c'è l'accordo raggiunto con i talebani, in forza del quale gli americani stanno facendo uscire da Kabul un numero importante di persone. Solamente ieri gli aerei civili e militari americani hanno portato fuori da Kabul dall'aeroporto 10.700 persone e questo accordo prevede che le forze americane lasciano il paese il 31 agosto. Dall'altra ci sono le posizioni degli alleati della Nato, in primo luogo gli inglesi ma anche i francesi e i tedeschi, che premono sugli americani per estendere questa deadline, per il motivo molto semplice che i loro collaboratori molto spesso sono altrettanti, stiamo parlando di migliaia di afghani, ma non si trovano a Kabul, ma in altre zone. Nel caso dei tedeschi a Masar e Sharif e Kondurs, nel caso degli inglesi a Kandahar. Quindi Biden è in una situazione abbastanza difficile, sarà una battaglia politica attorno al tavolo, anche se l'incontro è digitale, ma non c'è dubbio che alla fine decideranno gli americani, perché senza la struttura militare americana è impossibile tenere l'aeroporto. Mi viene da dire una cosa, direttore, poi così allargo il discorso anche agli altri ospiti, in un caso come in un altro, al termine del G7 o al termine del futuro G20, che ha in mente Mario Draghi, sarà inevitabile avviare un'interlocuzione con il nuovo regime talebano. Si può dialogare anche con un regime da cui si è molto distanti senza concedere una legittimazione politica? Questa è la domanda strategica più importante sul terreno del G7 oggi e del G20 domani. È chiaro che tutti in qualche maniera stanno già parlando, trattando e avendo contatti con le talibani. Lo fa la Nato, lo fanno gli americani, per non dire dei russi, i russi, i cinesi e i pakistani. Il punto vero però, come giustamente sottolinei, sono le condizioni. E io credo che i paesi e le democrazie non possono prescindere dal rispetto dei diritti umani e soprattutto dei diritti delle donne. Quanto ci dicono le organizzazioni non governative che hanno il polso di quanto sta succedendo è che la seduzione sta evolvendo in maniera terribile per le donne. I talebani vanno di casa in casa, cercano tutte quelle che hanno fra 16 e 45 anni, non sono sposate oppure sono vedove e le portano via. Significa trattare le donne come prede per ridurle in schiave sessuali dei comandanti dei talebani e dei loro combattenti. È qualcosa che nessuno di noi può accettare. Allora, direttore Senato.